Ancora Times Square, da andare al centro di informazione abbiamo probabilmente dimenticato tutti i noteri Dal mio cellulare al documento che bisogna esibire per avere la pass, per i vari monumenti Roberto ha dimenticato i documenti nostri da esibire, quelli di identità, tutto abbiamo dimenticato Fuso orario, ci ha proprio fregato Adesso devo tornare in hotel, meno male che comunque avremo potuto ritornare perché in bicicletta non possiamo andare con i pacchi che abbiamo perché siamo passati all'hard rock Grazie a tutti No, 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 no No, no, no Ok, no Ok, no Ok, no Ok, no Ok, no E' l'ho in ticona? Ok Ok E' l'ho in ticona? E' l'ho in ticona? Ok